Ciao, sono Manola del Team Customer Care. I metodi di pagamento disponibili sono tre. Bonifico bancario, carta di credito o addebito diretto sul conto. Se vuoi pagare in un'unica soluzione 12 mesi, puoi utilizzare bonifico bancario o carta di credito. Se invece vuoi pagare ogni due mesi, puoi utilizzare carta di credito o addebito diretto sul conto corrente. Il metodo di pagamento prescelto può essere modificato in qualsiasi momento tramite l'area riservata del sito Per farlo, accedi alla tua area nella sezione Pagamenti e clicca su Modifica il metodo di pagamento. Per qualsiasi chiarimento, contattami attraverso la chat disponibile sul sito.